Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Dunque, dopo il video fatto qualche oretta fa della post partita Juventus-Empoli, adesso facciamo il video delle pagelle. Pagelle che, devo dire, anche oggi, vista la partita comunque abbastanza mediocre, difficoltosa, non è stata una gran bella Juve da vedere, però partite come queste in campionato sappiamo che ne vediamo tante, per cui ormai ci ho fatto il callo. Detto questo, veniamo alle pagelle. Allora, cominciando ovviamente Scezni. A Scezni ho dato sei, ho dato sei perché comunque mi è parso di vedere una partita di ordinaria amministrazione. L'Empoli non è che abbia fatto tantissimo a livello di pericolosità, sicuramente ha avuto un discreto possesso palla per essere una squadra che è quart'ultima in classifica e che viene a giocare allo stadium. Partita, come dicevo nel video precedente, che se fosse finito in pareggio non ci sarebbe stato nulla da dire, però diciamo l'Empoli non è che abbia fatto qualcosa di particolare, quindi penso che dare un sei a Scezni come ordinaria amministrazione vada più che bene. Cancelo, Cancelo anche gli ho dato sei, ha fatto un'onesta partita, questo ragazzo secondo me deve prendere più coscienza nei propri mezzi, perché il potenziale ce l'ha ed è enorme, però in alcune occasioni forse è stato esaltato anche troppo, nel senso che in certi momenti di alcune fasi delle partite lo vedo un po' timido e dovrebbe invece essere, è un ragazzo che ha un fisico impressionante, una corsa impressionante, ha lo scatto, ha tutto e ha due ottimi piedi, soprattutto il destro, per cui dovrebbe usarlo di più e usarlo meglio, la timidezza forse è quello che lo frega un po'. Rugani, a Rugani io ho dato sette, credo di non aver mai dato un voto così alto a Daniele Rugani, io penso che oggi sia stato perfetto, a mio parere, non ha sbagliato assolutamente nulla, diciamo che in più di un'occasione ha chiuso la strada ai giocatori dell'Empoli, attaccanti o centrocampisti che fossero, devo dire oggi mi ha abbastanza convinto, diciamo che forse il rinnovo gli ha fatto bene, vuol dire che magari giocherà un pochino più tranquillo, con meno apprensione, senza aver bisogno di dover dimostrare per forza qualcosa, quindi oggi dico bravo Daniele, Chiellini, 6 e mezzo, il nostro capitano non ci delude mai, sempre al centro dell'attenzione, sempre un grande esempio per tutti, è venuto anche in attacco come fa spesso per cercare la via del gol, quindi io credo che a un capitano più di così, uno come Chiellini non gli si possa davvero chiedere, quindi partita comunque gestita da par suo. Alessandro, è qui ragazzi, ritorniamo sempre da sempre, ormai da un periodo lunghissimo, con le dolenti note, io ad Alessandro ho dato 4 e mezzo, è un giocatore completamente involuto, un giocatore veramente che è la fotocopia di ciò che è stato a tempo debito, non è assolutamente, secondo me è un giocatore veramente irriconoscibile, inguardabile per certi punti di vista, mi dispiace molto perché io sono stato uno dei primi fan di Alessandro, ma purtroppo ragazzi mi sta fornendo una prestazione deludente dietro l'altra, io credo veramente che la Juventus possa davvero pensare a fine stagione di liberarsene. Emre Can, io a Emre Can ho dato 6 e mezzo, secondo me in questo momento è uno dei giocatori più propositivi che abbiamo noi nella nostra squadra, un giocatore sempre nel furco del centrocampo, un giocatore che non delude veramente, ha preso decisamente in mano le redini della situazione, questa è sicuramente una cosa molto positiva, è un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto, quindi come ho sempre detto è chiaro che un fuoriclasse non lo è, ma è un giocatore molto 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 importante, molto importante. Pjanic, Pjanic gli ho dato 6, ha fatto una partita onesta, non ha fatto vedere niente di particolare, io continuo a pensare che sia un giocatore che se venisse sostituito non mi strapperei i capelli, non me li strapperei, penso che da uno come Pjanic mi sento in dovere di dire che vorrei vedere qualcosa di più e di meglio di quello che invece mi fa vedere, e invece anche oggi in certi momenti, pur che l'abbia visto discretamente bene, secondo me gli manca sempre qualcosa a questo ragazzo, non riesce mai ad essere quel giocatore che a me piacerebbe che fosse, mi sembra sempre un eterno incompiuto, e anche oggi mi ha dato palesemente quest'idea. Matt Widi gli ho dato 5 e mezzo, per il bravo Blaise un mezzo voto in meno degli altri, perché si corre, si è mosso, ma oggi diciamo che l'ho visto in certi momenti un po' in apnea, ok? C'è come per dire un pesce fuor d'acqua, ecco, in certi momenti non ho visto il solito giocatore recupera palloni e rabbioso che invece siamo abituati spesso a vedere. Oggi non certo la sua miglior partita. Bentancur, 6. Questo ragazzo si è un po' perso ultimamente, forse sta passando un periodo di appannamento, può succedere, niente di male ci mancherebbe, io come sapete bene credo molto in questo ragazzo, è un ragazzo giovanissimo, 21 anni, deve crescere, deve migliorare, quindi questi periodi di appannamento ci possono essere, niente di male per Rodrigo, continua a lavorare ragazzo perché arriverai. Certo, anche oggi non è stato sontuoso, è un po' lui come tutto il resto della squadra, per cui niente di straordinario. Berna, Bernardeschi io gli ho dato 6 e mezzo, è andato un paio di volte vicinissimo al gol, secondo me è un ragazzo che sta veramente prendendo possesso a pieno, piano piano della Juventus, io credo che dall'anno prossimo vedremo un giocatore diverso da quello che si è visto quest'anno e Allegri si sta forse cominciando a rendere conto che questo ragazzo deve giocare più spesso, anzi deve essere uno dei titolari fissi. Questo ragazzo può dare molto di più di quello che sta dando, sta lavorando per questo, arriverà, anche lui mi sembra che abbia poco più 24-25 anni, non so quanti anni ha, di preciso Federico, però è un giocatore che a me piace moltissimo e anche Mancini in nazionale non ne fa mai a meno quando può. Quindi partita da 6 e mezzo, mi piacerebbe qualche volta cominciare a dargli 7 e mezzo come successo contro l'Atletico. Manzukic, qui arrivano alla seconda e dolenti note perché siamo un po' ai livelli di Alessandro. Mi dispiace molto perché io sono un estimatore di Manzukic, però Marione Nostro è un periodo che comincia a essere molto lungo di delusioni a livello di gioco, di apporto per la squadra. Anche oggi ha toccato pochissimi palloni, ne ha toccati alcuni male, non si è fatto trovare pronto e scattante come invece siamo solitamente abituati a vederlo. Dicono che il ragazzo firmerà un rinnovo per altre due stagioni, io ovviamente da Juventino me lo auguro, però mi auguro anche nel prosieguo della stagione di vedere un Manzukic diverso da quello di oggi. Credo che il 5 e mezzo sia un voto che ci sta ampiamente. Ken, a Ken io credo che sia giusto dargli 7, perché non soltanto per il gol, perché tra l'altro l'unica cosa che ha fatto buona Manzukic, ci ha dato la palla a Ken, è che è la sfruttata pieno. Io personalmente credo molto in questo ragazzo e la Juventus deve fare il rinnovo prima possibile per non farselo sfuggire, perché questo è un talento puro, è un talento cristallino. E chiaramente non stiamo parlando di un prossimo Messi, non stiamo parlando di niente del genere, non mi esprimo certo a certi livelli, però un giocatore che fa gol con una regolarità come quella che sta dimostrando in questo momento Moise, io credo che vada ampiamente meritato il voto di 7 in pagella e vada soprattutto meritata la grande considerazione che in società stanno dimostrando di avere di lui. L'unico intoppo sarà quella di Mino Raiola, che speriamo non spari delle cifre folli, perché comunque va tenuto in considerazione che ha 19 anni e nell'intervista pre-partita, secondo me Allegri ha detto una cosa giusta, quando ha affermato voi parlate sempre di Ken, fa due partite buone, lo troviamo lassù, se fa due partite sbagliate siete pronti a ricoprirlo di sabbia. Bisogna stare almi, perché comunque non va dimenticato che a 19 anni, e a 19 anni ancora uno può andare alla conquista del mondo, ma lo deve fare gradatamente e sono d'accordo con il nostro mistero. Spinazzola, gli ho dato 6, Spinazzola ha sicuramente fatto meglio di Alexandro quando è entrato, il ragazzo che mi sta completamente conquistando, non avrei mai immaginato, a parte la partita sontuosa contro l'Atletico Madrid, ma è stato veramente un ragazzo che tutte le volte che entra, per il momento non mi ha mai deluso, e quindi bravo Spinazzola, davvero bravo, confido in te per il resto della fine della stagione, assolutamente. Gli ho dato 6, ma gli avrei potuto dare anche 6 e mezzo. Caceres, Caceres gli ho messo non giudicato, è entrato negli ultimi 7-8 minuti, ha respinto un paio di palloni, ma nulla di più. Ad Allegri oggi ho dato 6, ho dato 6 perché presenta una squadra dove avrei preferito, come dicevo prima, vedere che è in titolare, però ciò non toglie che comunque porta a casa un'altra vittoria, anche se non è una vittoria mirabolante, ci avviciniamo sempre di più alla conquista dell'ottavo scudetto consecutivo. Io non credevo una cosa possibile per una squadra, sinceramente, io dico sempre che gli scudetti a lungo andare mi stancano, però io credo che vincere 8 scudetti di seguito, ragazzi, veramente è una cosa, se uno ci pensa, che è veramente una cosa dell'altro mondo, davvero. Brava Juventus, continua a vincere, che a noi non dispiace mai. Per il resto, le pagelle finiscono qui, ci sentiamo alla prossima, perché adesso faccio il video su Sampdoria Milan. Ciao a tutti.